complimenti perché conosci bene i nostri avversari sicuramente una squadra che presenta tante soluzioni offensive con giocatori di qualità e giocatori di velocità se è vero che Zeco era un punto di riferimento è tanto vero che Zeco ultimamente stava giocando bene la Roma ha ottenuto degli ottimi risultati anche senza di lui quindi affrontiamo una squadra che sta bene che tiene bene il campo noi dobbiamo controporci con grande lucidità tattica e con grande compattezza in entrambe le fasi di gioco e la classifica dice quello dice che come era facile pronosticare o comunque diversamente dall'anno scorso dove già a questo momento c'erano forse 4-5 squadre solamente in lotta per la Champions e per lo Scudetto quest'anno tutte le sette squadre più forti del campionato sono lì in pochissimi punti quindi affrontiamo una squadra che è dietro di noi di solamente 6 punti che sta facendo un ottimo percorso come lo stiamo facendo noi quindi una partita importante che vale 3 punti come le altre ma è uno scontro diretto quindi quando c'è uno scontro diretto forse i punti valgono anche di più di quelli che poi avrà in classifica e cominciamo con domani un momento un tre settimane che ci vedrà impegnati in campo in campionato cinque volte ci vedrà con la grande sfida in Europa League con il Manchester United e quindi adesso è un momento di spingere è un momento di metterci alla prova di provare a essere una squadra forte l'importante che il Milan faccia delle scelte tattiche precise quando vogliamo essere aggressivi dobbiamo essere aggressivi forte e accompagnare questa aggressione quando non è possibile aspetteremo poi noi abbiamo il nostro modo di giocare i nostri concetti che non devono assolutamente cambiare ma abbiamo grande rispetto agli avversari e quindi conosciamo le loro qualità conosciamo le loro le loro forze cercheremo di limitarle poi cercheremo invece di esaltare le nostre qualità una volta noi in possesso palla io credo che solamente però nella partita nella bruttissima prestazione che abbiamo fatto la spezia non siamo riusciti a creare l'occasione da gol ma nelle due partite con lo Stella Rosso e anche con l'Inter abbiamo avuto l'occasione per segnare chiaro che dobbiamo provare a giocare ancora a tornare a giocare di più nella metà campo avversario per portare più di più la squadra il baricentro della squadra in avanti avere più soluzioni offensive e poi cercare di non far ripartire gli avversari questo è un obiettivo anche per l'appetito domani perché chiaramente più siamo nella metà campo avversario più abbiamo problemi più abbiamo possibilità di segnare e meno abbiamo possibilità di subire oggi il Milan guarda la partita di domani e poi dopo la partita di domani guarderemo la classifica è inutile guardarsi indietro inutile guardarsi avanti non inseguiamo nessuno e non abbiamo paura di nessuno ma vogliamo cercare di tornare a vincere le partite questo è il nostro obiettivo poi i conti comunque sempre si fanno alla fine non ci siamo esaltati troppo quando le cose funzionavano al 100% nemmeno adesso dobbiamo essere depressi o troppo preoccupati sappiamo che tutti insieme dobbiamo fare qualcosina in più rispetto alle ultime prestazioni in campionato e la volontà e la determinazione sicuramente non mancheranno